Allora ragazzi ciao a tutti bentornati nel nostro video da pro e secco abbiamo a one late night che è praticamente un horror ambientato in un ufficio Voi avete paura a rimanere da soli in ufficio di notte? Noi si abbiamo già giocato un pezzettino e purtroppo frappi solo a noi dai ciocchi L'unione fa la forza fa la scorza e ora inizieremo il gioco da capo sappiamo già cosa fare all'inizio ma non siamo andati più avanti No abbiamo fatto poco sono esausto quindi ora dobbiamo prendere il caffè sto qua si sveglia in ufficio vuole il caffè Andiamo a prendere il caffè il nostro è capire che cazzo fa Robert Robert è un nostro collega che ha un ufficio a fianco al nostro Questo qua dobbiamo trovare la chiave per entrare nel suo cazzo L'ufficio si scopre che è un maniaco di demoni e c'è la stampante che scrolla male abbiamo preso il caffè Sì calma teo Apriamo nella sala riunioni Ah ecco ecco i fogli 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 Questo praticamente c'ha un potere che quando guarda qualcosa ha il potere di farselo appiccicare la testa Tipo calamito Tipo calamito Acqua le bolle Un antistress per quelli che lavorano qua dentro Un antistress in realtà l'acqua non serve per essere bevuta Siamo andati sotto terra non è ben col braccio Scaviamo scaviamo Aldo in ufficio di Robert Nostro Io ti vedo Quando io ho scritto qui Quando si è alzato era spento E ora dobbiamo andare nel bagno Ora dobbiamo andare nel bagno In bagno In bagno Ogni giorno così Ogni giorno così In bagno In bagno In ogni gioco corrono i cazzo ci sono le chiavi Sempre Oh una chiave Che anche la chiave l'ha tirata su con gli occhi C'è una mano sola questo Incominciano le cose paranormali Ma questo non può uscire ad andarsene a caso Io ti sento Io sento i tuoi I tuoi rumori No il clock No No Robert comunque è un pazzo maniaco Devo non lo Qua non ci serve la pasta Direi di no Eh chi è? Sono il mago merlino Sembrava fossimo stati noi A darci un calcione Ah che fiero Cazzo Te fai casino E noi dobbiamo mettere a posto Facci capire Maleducato Oh Ma va Ma va Non ci credo I zuccarifas Guarda che c'è anche il Cosa da qui Il palloncino Perché prima Siamo arrivati qua Fino a qua prima Siamo arrivati a far scoppiare Mi ha detto secco Fai scoppiare il palloncino E io Boh vabbè Facciamolo scoppiare Non comprate i palloncini Ma stai in giro Perché Alcuni ci hanno una brutta sorpresa Quelli rossi Quelli rossi Potere degli occhi Allora va Il telefono suona Suona Quello rosso Ma ce n'hai due Sto coso qua È una pinzatrice È una pinzatrice È una pinzatrice Oh Ma che minchia Il panino Il panino sembra buono La frittata sembra La ciabatta Io ho preso abbastanza caffè per oggi Poi vede i fantasmi Se ne prendo troppo Vedo le sentite che volano Vai da Oh Vai via Eh bisogna Oh porca troia Sì 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 Vai 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 Oh porca troia Oh porca troia Sta troia Se l'ha andata Se l'ha andata Ok ok Rispondiamo a te Vai Facciamo giro Ok I see you Proprio come non farsi Rubare l'accesso Sto qua Ma mozilla Bisogna andare lì Dove eravamo prima Trovare la password Robert Ho fame Non c'era questo prima No Check my dream My dream My drawer Sotto È una nota È una nota No Non lo sapevamo Check ma che cazzo vuol dire drawer Oh Ciao The light is your friend Scusa Difatti Se ti dai una torcia Non c'ho la batteria però Cosa me ne faccio Robert Che non ci lasci la batteria Ci dai la torcia Non ci dai la batteria Ecco Sconditi Veramente non so se c'è la tipa Non penso Era diverso Oh sì Sarà così stupida Vai sotto Spegni la radio Anche la radio si è fermata Ma meno male Ma che si tolgono anche sti pelletti dallo schermo È lì No è lì Però non era Ricordiamoci di non accendere più la radio Vaffanculo la radio Che cazzo io c'ho i brividi Ha fatto coscia 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 Ancora Lascia la porta aperta che la voglio vedere Magari viene lì Se sta per il cazzo Mi fai un favore se ce l'hai Vedi la carretta 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 Vabbè oh Te ne vai Devi inizi avere dei problemi Nella canzoncina Quando se ne va Potrò uscire Col cazzo Esci col cazzo Ah Bastava uscire Ma Ma la password Sarà in bagno Nel lavandino E chi è che la mette la password Nel lavandino Di la cazzo di porta E' una bella cagata Che facce la una cagatina Chi dentro Perra chi Gli sta venendo un infarto Tra un po' gli esplode il cuore Me lo voglio un po' vedere Stai qua Perché non ti vede No Vabbè Sicuramente è qua dietro Eh Ma stavo No Questa stanza ha dei problemi Io non mi ci metterò qua dentro Sì Vai via Vai 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 Ma cos'è Una macchiniera Cosa c'ha le ruote su te i piedi Ci ha visto con la fronte Chiuditi C'è un coltello Non conosci comandio Cazzo di compilare No non possiamo passare Vamo lì nell'angolo Scusa Scusa No 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 vai via vai via Vatti vatti Oh No Beh è un gioco in cui Ci perdi la testa No Sì ci perdi la testa Devi trovare le chiavi Devi trovare la password Nei cazzilli Quello e quell'altro Non abbiamo trovato niente Abbiamo trovato una chiave Questo gioco comunque L'abbiamo provato E Se vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi come sempre E iniziamo A fare Una serie su Outlast Quindi ci si è rotto il cazzo Detto proprio Papale papale Ci si è rotto il cazzo Di giochi Di questi giochi Perché Non hanno Non hanno né trama Né senso Ciao a tutti Commentate Olé 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 Mangia granelli Di marijuana Sto cosa ci fa andare A buon cattroio Ma cos'è Non è Sono di là Fatto la rifattizione Il chilometro Grazie a tutti Grazie a tutti